Oggi vi vogliamo presentare alcune delle nostre mamme. Emanuela, che ogni giorno conduce con maestria la sua famiglia e un autobus da 19 tonnellate per le vie di Milano. Martina, che sa come tenere sotto controllo la sua bambina e le 100.000 persone che passano ogni giorno nella stazione di Garibaldi. E Marianna, che con sorriso e professionalità illumina le giornate dei suoi figli, e di tutti coloro che prendono i mezzi pubblici. In ATM abbiamo mamme di cui vantarci e vogliamo celebrarle oltre ogni stereotipo.